Inizia questa nuova avventura anche qui a Piazza Matteotti come sindaco della città metropolitana, eletto dal popolo come sindaco di Napoli, per legge sono anche sindaco della città metropolitana e quindi già subito a lavoro, senza un giorno di sosta, per ripartire da dove avevamo finito, impegno massimo, concreto, per stare vicino negli ambiti di nostra competenza a tutti i territori della città metropolitana. Il mio impegno è creare sempre maggiori sinergie e relazioni con i sindaci della città metropolitana, farmi anche vedere maggiormente sui territori e non far mancare mai il mio sostegno. In questo anno e mezzo che ci ha preceduto sono stati raggiunti obiettivi enormi sul piano dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza economico finanziaria delle società partecipate e dei lavoratori, quello che è stato investito sulla materia urbanistica ed ambientale, sul tema complessivo dei servizi, dei trasporti e dell'ambiente. Proseguiremo in quella direzione e nei prossimi giorni anche entrerò nel dettaglio di tante cose che faremo con l'approvazione del bilancio che è uno dei primi atti che farò da qui a qualche giorno. Quindi grande impegno, grande concretezza, è un'attività di relazioni, di sinergie e di consultazioni costante con i territori, con i cittadini e con gli amministratori, oltre che con i consiglieri che fino ai primi di ottobre saranno prorogati quegli uscenti, poi ci saranno le elezioni con il nuovo Consiglio metropolitano. Grazie.